Chi deciderà l'esito finale? Il collegio, il collegio dei commissari, ma la decisione sarà preparata da Piero Moscovici e da Valis Dombrovski. Questo quindi è l'iter previsto alla Commissione. Sono ancora possibili sanzioni per la Francia? Spero capiate che non posso azzardare ipotesi in questo tipo di questioni, però abbiamo delle regole chiare. Un Paese che è in procedura di deficit eccessivo, qualora non segua le regole alla fine del mito, può vedersi combinare sanzioni, però non voglio assolutamente adesso azzardarmi un'ipotesi del genere per nessun Paese.